salve a tutti partiamo del presupposto che in questa immagine c'è il leone che sta rugendo e noi faremo in modo che si veda fisicamente e visivamente l'audio che sta uscendo dalla sua bocca questo è possibile farlo anche con una foto allora principalmente si fa lo scontorno della faccia del leone soprattutto duplichiamo questo livello nuovo livello duplicato poi gli diamo il canale alfa scontorniamo velocemente prendiamo solo a grandi linee la faccia un po di peli del leone che è inverto cancello quindi qui ho solo il leone la faccia levo la selezione filtri sfocature zoom allora mi raccomando c'è questa freccetta che devo assolutamente metterla sopra la bocca del leone che l'ho messa lì e la quantità di sfocatura che voglio è 0,500 ok faccio fare adesso su questo livello levo un po di opacità per esempio così ok l'effetto è finito non vi dà l'idea che sta urlando e fuori dalla bocca sta uscendo proprio l'onda sonora ok per questo video è tutto